Gentili telespettatori, buona giornata. Dal primo luglio, pochi giorni, licenziamenti, la fine del blocco. I sindacati l'avevano dati ormai come una conquista sindacale, costituzionale. Ormai per i sindacati il blocco dei licenziamenti era per sempre, forever. Ormai in Italia non si poteva più licenziare. Era diventato un diritto acquisito, un po' come il reddito di cittadinanza per i grillini. Se non mi dai il reddito trovami un'alternativa, non so, vedi tu. Se non mi vuoi dare il reddito che mi dai? Questo dicono molti che prendono il reddito. Trova un'alternativa. L'alternativa è che ti alzi e vai a cercarti il lavoro come ho fatto sempre io. La fine del blocco c'è però. Nonostante i sindacati avevano immaginato che il blocco dei licenziamenti è per sempre. No, non è per sempre. È una cosa emergenziale ma non può lo Stato sostituirsi e mantenere tutta l'Italia. Perché è l'Italia che mantiene lo Stato. E lo Stato siamo noi, lo Stato non può mantenere 60 milioni di persone. Che cosa cambia dal primo di luglio? Il blocco dei licenziamenti è stato deciso per la prima volta dal Giuseppi II con il Cura Italia il 17 di marzo del 2020. Disponeva al provvedimento la sospensione dei licenziamenti collettivi avviati dal 23 febbraio 2020 e il divieto dei licenziamenti individuali per motivi economici. La misura riguardava tutte le aziende, a prescindere dal numero di dipendenti e doveva durare fino al 16 maggio, 60 giorni, cioè due mesi. Ma poi arriva il decreto rilancio e il Governo decise una prima proroga di altri tre mesi, fino al 17 di agosto. E poi altri, l'ultima con il decreto sostegni bis, fino al 30 giugno 2021, per le aziende che accedono alla Cassa Integrazione Ordinaria, Industria ed Edilizia. E fino al 31 ottobre 2021 per le imprese che invece utilizzano la Cassa Integrazione Inderoga o il FIS, Fondo Integrazione Salariale. In pratica piccole aziende e terziario. Il blocco dei licenziamenti è stato accompagnato fin dall'inizio dalla concessione della Cassa Integrazione Inderoga, senza costi per l'impresa. Non lo licenzi ma lo mantengo io come Stato. In caso però di fallimento o cessazione definitiva dell'attività, il licenziamento c'è, è inevitabile. Tu passi poi dal licenziamento al reddito di cittadinanza. Lo Stato dice, ti mantengo lo stesso, l'azienda è fallita, chiedi il reddito e ti mantengo lo stesso io. Senza nuove disposizioni di legge, cioè se il governo non interviene, dovrebbe prendere prima del 30 giugno, dal 1 luglio si applicherebbe il regime previsto dal DDL Sostegni e BIS. Questo significa che le aziende, con accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria, potrebbero avviare le procedure sia per i licenziamenti collettivi sia per quelle individuali, per motivi economici. Per i licenziamenti collettivi va aperto un confronto con i sindacati per cercare un accordo. L'azienda porta a procedere anche senza intesa. I lavoratori licenziati potranno accedere al NASPI, indennità di disoccupazione, che ancora esiste, per un massimo di 24 mesi. Caspiterina, 24 mesi di indennità di disoccupazione sono ben due anni. Quando ai miei tempi perdevo il lavoro c'era l'indennità di disoccupazione che erano otto mesi, con l'80% dello stipendio e andava a scendere fino agli ultimi mesi al 40%. Caspiterina, adesso un'indennità di disoccupazione di 24 mesi sono due anni. Il decreto sostegno IBIS ha sospeso fino alla fine dell'anno il taglio del 3% al mese dell'importo della NASPI a partire dal quarto mese. Lo stesso provvedimento ha previsto la possibilità per le stesse aziende e industrie edilizie di poter ricorrere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria dal 1 luglio senza il pagamento del contributo aggiuntivo, in cambio del divieto di licenziare fino al 31 dicembre del 2021. Ma allora chi ha che rischia questi posti di lavoro? Perché poi alla fine uno rischia di non capirci più niente. Secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, la ripresa in atto lascia presumere che i datori di lavoro non dovrebbero avere né necessità né convenienza a grosse espulsioni di forze di lavoro. Si stima che i lavoratori che potrebbero perdere l'impiego siano nell'ordine di 70.000 concentrati quasi esclusivamente nell'industria, non nelle costruzioni dove l'attività è in aumento. I licenziamenti, dice l'autorità, saranno plausibilmente scaglionati nel tempo e potranno avere come effetto anche un aumento delle assunzioni tra i giovani. Però se il licenziamento comunque comporta questi 24 mesi di aiuto dello Stato, pertanto non dovrebbe esserci nell'immediato persone in mezzo alla strada, licenziate dall'industria. Sì, senza lavoro, ma con una copertura di 24 mesi. Che farà il governo? Una nuova proroga del blocco dei licenziamenti, ma selettiva. Le norme saranno inserite in un decreto che potrebbe essere approvato tra domani e mercoledì. Riguarderebbe solo una parte delle aziende per le quali il blocco termina il 30 di giugno. La platea verrebbe limitata con ricorso a parametri come l'appartenenza a settori che tuttora sono caratterizzati da un altio rischio della cassa integrazione. Tessile, abbigliamento, calzature. E' l'essere oggetto di uno degli 85 tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Alcuni nomi di grandi aziende. Air Italy, Sider Alloy, Whirlpool, Ilva, Alitalia. Ecco, di cui due sono carrozzoni statali. Le aziende interessate, in cambio della proroga del divieto di licenziare, potrebbero utilizzare ancora la cassa Covid gratuita. Insomma, ci sarà la possibilità di licenziare, ma sarà un qualcosa comunque che il governo cercherà di limitare, dicendo in questi settori non dovrebbero licenziare. In questi sì, allora lì faccio qualcosa. In quelli dove non dovrebbero licenziare, qualche licenziamento quantificato in 70.000 persone avverrà. Però avverrà, ma c'è una sorta di aiuto statale, come dicevamo, del NASPI, che sono così indemnità di disoccupazione per un massimo di 24 mesi, due anni. Insomma, in due anni si spera che uno riesca nuovamente a trovare lavoro, si spera. Non è certo, ma è un buon tempo per cercarsi un lavoro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia seconda rete qui su YouTube. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.